Buongiorno ai telespettatori di Rossini TV, benvenuti a Casa Rossini e questa mattina non sono solo neanche in questo inizio di trasmissione, sono con un ospite che è un collega, uno dei conduttori di Rossini TV sono con Andrea Sabatini, una B e una T, quanto ti avranno storpiato il cognome da giovane Andrea? Esattamente Paolo, ti ringrazio per l'invito, a scuola diciamo che era sempre un errore, è continuo, ancora oggi lo è, infatti ormai ogni volta che dico il mio nome e il cognome dico subito una B, due T, subito. Esatto, invece lui è proprio Andrea Sabatini, conduttore di Vallefoglia Magazine, è qui con noi proprio per questo motivo, giusto? Esatto Paolo, perché questa sera alle 19 c'è la nuova edizione, quella che va tutte le settimane, quindi in prima serata alle 19, ci saranno delle belle notizie, anche un'aprimente prima comunque sul Natale, c'è un bel servizio fatto ad un ragazzo di Montecchio che ha partecipato a un programma televisivo su Real Time, Matrimonio e Prima Vista e noi siamo andati a un po' a scoprire, a farci raccontare anche questa esperienza e quindi stasera si vedrà. Ricordiamo che Vallefoglia Magazine è un settimanale interamente dedicato a eventi, avvenimenti, fatti, proposte, situazioni, novità, indiscrezioni del territorio di Vallefoglia che ricordiamo per chi fosse proprio distratto, 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 in realtà è un comune perché comprende quelli che gli anziani come me ancora continuano a chiamare col bordolo, Bottega, Montecchio, eccetera, ma in realtà è un unico comune, con un unico sindaco che ricordiamo... Un unico sindaco che, lo anticipo io o lo anticipo tu? Anticipo, anticipo, anticipo. Anticipo io, questa sera alle ore 20, lo avremo proprio qua in studio, ecco anche in grafica, Palmi e Rucchielli, che risponderà ai cittadini, quindi invito anche chi si sta seguendo di fare domande, trovate il numero di WhatsApp e anche il numero fisso, un paio ne sono già arrivate e quindi gliele porremo, un'oretta di chiacchierata con il sindaco Rucchielli. Allora, fammi fare i conti, sei in onda con Vallefoglia Magazine, alle hai detto? 19. 19, poi sei in onda in diretta con Palmi e Rucchielli, alle... Un'oretta alle 20. Per cui, allora, facendo bene i conti, oggi sei in onda più di me? Eh, più o meno, dai, un'oretta e mezza, più questi minuti che di questa mattina, quindi sì, perché il Vallefoglia ad occhio durerà comunque sui 20-25 minuti soliti del magazine settimanale, con Ucchielli un'oretta e quindi... Ce la giochiamo con le repliche, insomma, con le repliche ce la giochiamo. C'è la replica anche del Vallefoglia, però, alle 23 c'è la replica anche del Vallefoglia, quindi ce la giochiamo giusto, giusto. Ricordiamo, infatti, che Casa Rossini è un programma in diretta, il lunedì, mercoledì, venerdì, su appunto Rossini TV e su tutti i canali che sono il 633 del canale digitale e terrestre, ma anche i canali social, per cui la pagina social, la pagina Facebook di Rossini TV e anche su www.rossinitv.it in diretta, streaming. Però ci sono anche repliche e colgo l'occasione per ricordarlo, lo faccio raramente, ma colgo l'occasione per ricordare che questo programma va in replica alle 16 del pomeriggio della diretta, praticamente, e alle 22, poi il giorno dopo alle 15 e 15, e poi c'è una lunga maratona domenicale che ci siamo conquistati, nella quale potrete seguire tutte e tre le puntate della settimana. Andrea, io come al solito apro comunque con quello che è un po' la panoramica della giornata, ma prima mi sono preso un appunto, sai cosa vuol dire Andrea come nome e qual è l'etimologia? Lo voglio sapere. Allora, dal greco vuol dire uomo virile e robusto, pensa. Robusto ci siamo. Ci siamo comunque, uomo virile e robusto è la spiegazione del nome Andrea. Oggi è il 4 dicembre, mancano 27 giorni alla fine dell'anno, secondo il nostro libro Personologie è il giorno della forza d'animo, per cui per tutti quelli che insomma hanno a che fare con questa giornata, la forza d'animo è potente. Oggi 4 dicembre si celebra Santa Barbara, Santa Barbara è la patrona dei vigili del fuoco, della marina, del genio militare, dei geologi, dei montanari, dei minatori e degli architetti. È venerata sia dalla Chiesa Cattolica che da quella ortodossa e viene invocata per proteggersi da fulmine e sette in generale dal periodo di morte improvvisa. C'è un motivo per cui Santa Barbara è la patrona di tutta questa situazione ed è legata a tutto questo e ha a che fare con ovviamente la sua morte, perché tanto i santi sappiamo che hanno avuto tutti vita e soprattutto morte terribile e che è legata a un tentativo, siccome lei era diventata cristiana e la famiglia non voleva, allora era legata a un tentativo del padre addirittura che ha più e più volte tentato di ucciderla in molti modi e tra questi tanti modi c'era anche qualcosa che aveva a che fare con esplosioni, cose del genere. Alla fine il padre è stato fulminato da una saetta, adesso non ve la faccio lunga, però insomma andatela a vedere perché è una storia comunque, è una leggenda o storia che merita di essere approfondita e ricordata. Alcuni eventi storici del 4 dicembre, parto da lontano, 63 a.C., pensa da dove parto, molto lontano, però poi dopo la faccio breve, arrivo oggi velocemente. Marco Tullio Cicerone, che era avvocato politico, scrittore, oratore, filosofo romano, pronuncia la quarta catilinaria, sai quali sono le catilinarie? No, mi sfugono adesso. Bravo, le catilinarie in latino, che sono le orazioni di Catilina, sono quattro discorsi che ha tenuto Cicerone contro Lucio Sergio Catilina, che è stato un senatore romano, un militare senatore romano, noto soprattutto per la congiura di Catilina, appunto, che porta il suo nome. Facciamo un salto pazzesco, al 1563 comunque, rimaniamo parecchi anni fa, a Carini viene uccisa la baronessa Laura Lancia. Ora, uno dice, questa è una foto della baronessa? No, questa che vedi in video è la foto di Jeannette Agren, che è l'attrice che insieme a Ugo Pagliai, ha interpretato la baronessa di Carini in uno speciale, anzi in un, come si chiamavano quella volta, sceneggiato, in uno sceneggiato televisivo per regia di Daniele Danza, intitolato L'amaro caso della baronessa di Carini. Ugo Pagliai, Jeannette Agren, nel cast anche Adolfo Celi, Enrica Bonaccorti, Paolo Stoppa, Guido Leontini, Vittorio Mezzogiorno, sono sicuro che molti di quelli che sono all'ascolto in questa fascia oraria ricorderanno questo sceneggiato televisivo, insieme a tanti altri dell'epoca, di cui era tra l'altro protagonista spesso Ugo Pagliai. Nel 1965 invece viene lanciata la sonda Gemini 7, con a bordo Frank Borman e James Arthur Lowell, detto Jim Lowell. La Gemini 7 era preparata, il volo è stato preparato per essere un volo a lunga durata, era la prima volta che si superavano certi limiti ed è stato nello spazio 14 giorni. Durante la missione era previsto il collaudo di nuove tute spaziali, per la prima volta era prevista la possibilità di togliersi le tute con le quali gli astronauti facevano le loro missioni spaziali, per cui quando erano in volo in 14 giorni, insomma almeno per muoversi un po', avevano trovato il sistema per togliere queste tute. Questi sono gli eventi che abbiamo selezionato per oggi e questa è un po' tutta la situazione. Siamo quasi in chiusura del nostro appuntamento, ma come vedi io prendo il librone, perché come tutti noi, anche te, hai messo su Facebook data di nascita, compleanno eccetera. Esatto, sì. Abbiamo un 14 settembre se non sbaglio. 1995. Malissimo, questo non lo dovevi dire assolutamente. Infatti l'anno non lo dovevi dire, perché l'anno è una coltellata al cuore di chi come me, insomma, in quegli anni lì era già non grande, è proprio insomma già anziano. Allora, il giorno del critico per spicace, ti piace questo? Questo è bello, il tuo giorno è il giorno del critico per spicace. Quindi sono una persona un po' che critica. diventa acuta, bravo. I nati il 14 dicembre si interessano molto alla società in cui vivono. Settembre. Difensori e al tempo stesso critici del paese e all'epoca in cui si trovano a vivere sentono spesso l'esigenza di impegnarsi in prima persona, non solo intellettualmente, ma anche praticamente, in progetti importanti che possano almeno nelle loro intenzioni migliorare la condizione umana. Tutto questo trasposto a Vallefoglia mi sembra che sia già, voglio dire, devono capirlo. Diciamo che mi impegno molto comunque nel magazine e poi permettimi di dire, approfitto anche che Rossini TV mi ha dato l'opportunità di fare anche il programma insieme a Canestro, insieme a Marco Cadedu che è stato qua quindi la regia. Un bel programma che è andato in onda anche ieri sera sul Basset che è comunque una delle mie passioni, quindi perfetto. Insomma, sei a casa tua anche te? Esatto, sì. Come molti dicono che insomma vedendomi qui in Casa Rossini sono a casa mia, anche te a Rossini TV sei a casa tua. Esattamente, Paolo. Questo è un grande risultato, te lo posso dire appunto da anziano, non c'è niente di meglio di riuscire a impegnare la propria passione, farla diventare una professione è il massimo, è il top. Io ti auguro che questo possa andare avanti. Tra i pregi annotiamo osservatore concreto e efficiente, è proprio il tuo lavoro questo ragazzi. Difetti, critico, difficile, impaziente, però sono difetti... Sì, poca pazienza ci può stare. Va bene, va bene. Ci può stare perfettamente. Va bene. Andrea, se non hai altro da aggiungere io ti congedo perché qui i minuti volano ed è tempo di accogliere il nostro primo ospite esterno della giornata perché io gli ospiti interni in casa li considero più che altro come colleghi di programma, insomma, tu ho quasi considerato un co-conduttore in questa casa. Esatto, Paolo. No, ti ringrazio per avermi invitato qua. Rinnovo l'invito questa sera, 19.20, quindi l'impegno con Vallefoglia e poi ci vediamo per un giro in moto prossimamente quando farà più caldo. Giusto, perché se avessimo avuto più tempo avremmo parlato della nostra passione comune. Andrea è appassionato di moto non solo da guardare ma anche da praticare e da poco proprietario di una moto che un po' gli invidio, diciamo, anche se anche la mia se la cava abbastanza. Prima di cominciare avevamo fatto due chiacchiere veloci su Marquez, mi dicevi, no? Sì, che ieri sera si è operato terza volta al braccio e speriamo nulla di grave perché qua magari non è amatissimo comunque per tutte le vicende, però questa stagione la sua mancanza si è sentita. Allora, mi dicono che devo migliorare la posizione del microfono, lo farò adesso mentre entra la prossima ospite. Grazie allora Andrea per essere stato con noi. Te sai che qui è casa tua, nel senso che quando vuoi te e tutti i conduttori di Rossini TV possono tornare a trovarmi in questa prima fase della mattinata e della trasmissione e in bocca al lupo per tutte le conduzioni e in particolare per i due appuntamenti di oggi insomma. Crepi lupo Paolo, ti ringrazio di nuovo e buon proseguimento di trasmissione. E adesso come da tradizione della nostra trasmissione cambio in diretta, cambio seggiola in diretta e nel frattempo io direi anche ad Allegra, se viene a mettermi meglio il microfono, perché a questo punto ciao Beatrice, buongiorno, buongiorno Beatrice Pantanelli che è la prima ospite della giornata e che è un piacevolissimo ritorno. Ritorno, sì. Un piacevolissimo ritorno. Guarda, mi sistemano sto microfono perché mi hanno detto che sono in diretta. Bene. Che dici, Allegra, che dici? Va bene. Perfetto. Bene, dovrebbe andare bene. Bene. Allora, dovrebbe essere tutto a posto. Quindi, di nuovo qui. Di nuovo qui, bentornata, molto contento di averti di nuovo qui, anche perché ne avevamo già anche un po' parlato l'altra volta, se ci fosse più tempo, se ci fosse più tempo. E invece questa volta un po' più di tempo c'è. Ti è piaciuta la cosa del librone che l'altra volta con te avevo trascurato? Sì, interessante, interessante. Andiamo a scoprire questo 23 ottobre. 23 ottobre, sì. Lo so, ma ragazzi, ormai noi non abbiamo più segreti per il mondo. Allora, lui è nato nel 95. 95. Io avevo tre figli. Vergogniamoci, no, lui si deve vergognare, non noi. Lui si deve vergognare di essere nato così tardi. Paolo, io dico questo. Ci abbiamo messo tanto per arrivare dove siamo. Tanto sudore, tanta fatica, tante cose belle. Torneresti indietro? Non lo so. No, 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 ma infatti, guarda, va benissimo. Io sono molto contento e, tra l'altro, l'attività che abbiamo scelto ci tiene a contatto con tutte le generazioni, no? Con tutte le generazioni e, come tu dicevi prima, si coniuga il lavoro con la passione che è veramente bingo, cioè vincere un terno all'otto il fatto di poter lavorare con delle cose che ci piacciono veramente, no? Oggi è la nuona puntata e io devo dire che questa cosa che non avevamo preventivato a livello di scelte, abbiamo cominciato comunque, ovviamente, in maniera anche molto spontanea a pensare a chi invitare e tutto il resto, si è rivelata man mano nella trasmissione. La trasmissione è come se avessimo fatto proprio l'impostazione di selezionare i veri appassionati. Stanno uscendo ospiti tutti legati da questo filo conduttore che è la passione per il lavoro che stanno facendo. Probabilmente sai cos'è? Che se uno non ce l'ha, sta passione, non viene neanche qui, è impegnato a lavorare, dice no, no, io c'ho da fare, ragazzi, non mi rompete le scatole, no, testa bassa. Invece se uno viene qua a raccontare e a raccontarsi vuol dire che la passione ce l'ha. E a far partecipare gli altri, poi, no, di questa passione. Li coinvolge. E infatti anche questo fatto che molti criticano, no, che noi scriviamo tutto su Facebook, che mettiamo anche la data di nascita, è un modo di far partecipare gli altri alla nostra vita. Adesso essere troppo espliciti, magari anche no. Però cosa c'è di male nell'aver scritto una data, no? Ed è da lì che io ho scoperto che te sei nata appunto il 23 ottobre, che è il giorno del karma conflittuale. Non si vorrà mai dire. Non lo so. Non lo sappiamo. In questo giorno è nato anche Nanni Loia, è nato Pelè, è un giorno bello. Bella gente, dai. Un giorno bello. Energico, sveglio, appassionato. Sono i pregi. Energico, sveglio, appassionato. Mi ci ritrovo. I difetti poco diplomatico, possessivo, eccitabile. Mi ci ritrovo. Sì, veramente. Mi si chiude la vena spesso, sì. Io quasi quasi allora ti leggo anche l'inizio, perché questo libro riporta parecchie cose, tra occhi la salute, cioè, però l'inizio è bello. I nati il 23 ottobre non sono quasi mai capaci di raggiungere la stabilità in tutti gli aspetti della loro vita. C'è sempre una sorta di precarietà, però, che spinge ad andare avanti, secondo me. Anche se si sforzano con ogni mezzo di riequilibrare le energie di cui sono dotati. Sembra che ci sia sempre un settore della vita in cui non riescono a mettere ordine. A volte i contrasti sembrano seguirli ovunque vadano. Allora, casa mia è sicuramente l'emblema di questo, perché io mi rendo conto che tante volte non riesco a trovare il posto alle cose. Le cose non tutte hanno un loro posto, quindi stanno lì, stazionano, cercando di capire quale sarà il loro spazio, il loro posto. Quindi mi ci ritrovo. Aspettano, sono lì che dubitano. Dici, ma troverà... Beatrice, mi troverà un posto? Gli oggetti poi lo scelgono il posto, no? Piano piano, alla fine, un po' si appoggiano lì. Magari si defilano. Io ho la mia teoria sugli spazi vuoti, soprattutto. Gli spazi vuoti che tu cerchi di lasciare vuoti, prima o poi si riempiono. Prima o poi si riempiono, assolutamente. Perché poi appoggio qui, metto lì, eccetera. Per cui gli spazi vuoti in casa sono un'utopia. Allora, Beatrice Pantanelli, noi abbiamo fatto questa chiacchierata come se tutti la conoscessero e come se tutti avessero visto la puntata precedente, ma in realtà ha qualcosa in più bisogno da dire perché non possiamo avere questa pretesa totalizzante. Che tutti abbiano guardato. Ricordiamo che Beatrice è la direttrice del Giardino di Santa Maria. Il Giardino di Santa Maria è questo posto magico, diciamocelo, alla confluenza tra la statale e la statale. Insomma, Santa Maria delle Fabrecce, per essere chiari. Perfetto. Santa Maria delle Fabrecce. Ed è un posto veramente molto, molto bello perché nasce da una, come posso dire, da una tradizione storica di rivalutazione della villa e di tutto quello che intorno alle ville da sempre c'era che erano in qualche modo i giardini. Per cui niente di meglio di un giardino nel giardino, voglio dire. Esatto, di fare un'azienda florovivaistica all'interno del Giardino di Santa Maria. L'idea vincente. L'idea vincente. Poi vedete le foto che vengono fuori, soprattutto in notturna. Quest'anno abbiamo dato grande spazio alle luci. Diciamo che il mio problema è sempre stato questo. Da fuori si nota poco. Bisogna avere voglia di entrare dentro e arrivare in questa perla che è il giardino. Ho sempre pensato a un'ostrica che ha un bel cuore e soprattutto una perla preziosa. E bisogna avere voglia di aprire l'ostrica, entrare e arrivare. Le luci perché? Quest'anno è stato un anno per tutti molto pesante. Per alcuni in particolare, per altri un po' di meno. Però tutti abbiamo vissuto il lockdown o comunque la separazione dai nostri cari. Io sono diventata nonna perché appunto queste cose accadono. Sì, è una cosa meravigliosa. Mio figlio, mia nuore e la bambina stanno a Cesena. Quindi io per lungo tempo non li ho potuti vedere. E grazie alla tecnologia sono sempre rimasta aggiornata con i primi passi, i primi balbetti. Quindi ho potuto seguirla, però voglio dire, tutti noi abbiamo sofferto di qualcosa. Allora dicevo, quest'anno così impegnativo, diamogli ancora una spinta di positività, una spinta di brillantezza. Mettiamo più luci, facciamo più festa, facciamoci vedere ancora più belli. Perché possiamo essere come un ristoro per la gente che viene da noi. che vede che c'è una positività, una bellezza che non è sparita con questa brutta avventura del Covid. Questo è un po' stato il nostro intento di imbellettarci ancora ulteriormente. Concordo. E a questo punto aggiungo un paio di coordinate. Siamo sulla quella che all'epoca mia si chiamava la nazionale, la statale, la statale 16. Quella che se la percorrete verso la Romagna, diciamo, vi trovate il giardino sulla sinistra. Sulla sinistra, sì. E lì la statale è sempre stato un posto dove uno dice, aspetta non ci si può fermare sulla statale. Invece praticamente c'è un parcheggio. Assolutamente sì. E questo è molto importante da sottolineare. È un grande parcheggio. Perché uno pensa, dice dove vado, dove mi metto. C'è un grande parcheggio agibile, utilizzabile, con molta tranquillità. Si entra dal parcheggio della bocciofila, per cui il primo punto è il parcheggio della bocciofila. Poi abbiamo messo cartelli per indicare, entrate dentro, fate la strada perché c'è il parcheggio, non fermatevi lì. Ancora tanta gente titubante si ferma lì e poi viene a piedi. Però piano piano stanno imparando anche, che appunto, anche i camionisti stessi mi chiamano dove metto il camion. Esatto. Invece c'è posto. Anche perché l'identificazione statale, impossibilità di parcheggiare, ormai fa parte un po' del DNA del pesarese tipo che non ci pensa nemmeno. Invece lì è concepito proprio per essere facile, molto più che in altre situazioni. Per cui non vi fate fuorviare, non vi preoccupate di questa difficoltà. E dato un po' l'identificazione, a proposito, mi ero preso un appunto, questa leggenda di Santa Barbara, dei rami di ciliegio, ne sai niente te? Assolutamente no. C'è una tradizione, me l'hanno anche mandata, c'è una tradizione che è legata appunto a questa morte un po' dolorosa di Santa Barbara d'opera del padre e tutto il resto, che invece prevede, proprio come oggi, di intagliare in maniera trasversale dei rametti di latifoglie, in particolare di ciliegio, eccetera, e tenerli vicino all'albero di Natale in modo che rifioriscano proprio il giorno di Natale. Guarda, ci proviamo. Ci proviamo. Ci proviamo. Ci proviamo qualcosa sul ciliegio e le latifoglie che io, da ignorante, non so cos'altri sono, ma comunque... Però io non ammitto queste cose. Cioè, tanto io so una cosa, per certo. A casa ce n'è una metà che sa cosa sono i latifoglie e la metà che non lo sa. Per cui io sto dalla parte di quelli che lo chiedono. Ricordiamo quali sono. Sono quelle che perdono la foglia, sono quelle che si spogliano in inverno, che sono tanta parte delle nostre piante. Sono, a mio avviso, bellissime. Per esempio, io guardo le rotatorie di Pesaro, quasi nessuna ha alberi a foglia caduca, che invece sono interessantissimi perché mostrano il muoversi delle stagioni. In primavera mettono su le foglie, poi hanno una loro fioritura, anche se magari non è interessante come ciliegio, o come altre bianche, come la rosa, che ne so. Poi mettono un frutto che magari è più o meno evidente. Poi da autunno prendono delle colorazioni diverse e infine si spogliano. E' vero che noi, nella nostra logica di tenere sempre tutto pulito, di non avere in toppi, in ghippi, le foglie che cadono, sono un po' un problema. Però l'effetto che dà una pianta con la foglia caduca è molto più interessante di una pianta che sta statica. Poi non voglio togliere niente né alla beta, né al cipresso, né a tutte quelle piante, né al pino, che non si spogliano, la magnoglia di cui i nostri giardini sono pieni, bella, bellissima, però è molto interessante questo alternarsi delle stagioni dato proprio dal cambiamento della pianta. Io vivo in una villa grande, antica, col parco, eccetera, sto dentro la villa di Limonaia, a Muraglia. Lì sto vivendo proprio col naso in su tutto lo sviluppo delle stagioni da diversi anni. Quest'anno non so perché ancora di più, forse perché l'aria pulita di marzo-aprile deve aver dato lucentezza diversa alle piante. Non so cosa è successo, ma ho notato quest'anno ancora più degli altri anni tutto questo sviluppo, tutte queste anche micro differenze, ci sono dei gelsi, c'è due cachi, c'è un pioppo. Sono meravigliore. C'è questo sviluppo così di questo che adesso chiamano tutti i foliage, ma insomma praticamente sono le foglie, e i colori sono una cosa... Le texture. Esatto, i colori. E poi è bello anche proprio vedere nel silenzio, dalle volte alla sera nel silenzio, una foglia che cade in quel momento, che decide in quel momento, e fa un rumore. Perché adesso chiaramente molte, no, col vento e tutto, però c'è un momento in cui anche senza vento una foglia decide di cadere, che tra l'altro c'è tutta una simbologia se vogliamo pensare a noi, alla nostra vita e tutto il resto, questa idea del momento in cui, vabbè, lasciamo stare per il pubblico del mattino. Non avventriamoci. Allora, è tornata sta guerra degli abeti? Ma sì, mi sembra di sì, anche perché da noi vengono tante persone che dicono ma poverino poi muore. Io direi di ridire che c'è un ciclo naturale per cui gli abeti vengono piantati, stanno in terra dai 5 ai 10 anni, producono ossigeno, quando vengono tagliati, poi vengono ripiantati, stanno nelle nostre case, fanno il loro dovere, abbelliscono, si muovono, fanno bello tutto, profumano, cosa che l'abete sintetico difficilmente fa. E poi, quando vengono portati fuori casa, in fondo, ritornano nella natura, perché ritorna humus. Cioè, noi, per esempio, le torbe, quelle che usiamo per i terrici, da che cosa sono fatte? Sono fatte da abetaie, pini, eccetera, eccetera, che c'erano nel nord Europa e che si sono trasformate in torba. Quindi, voglio dire, non facciamo nulla di cattivo per la natura vendendo l'abete tagliato. Poi, se uno lo vuole ripiantare, non prende quello, prende in zolla. Però, c'è una differenza molto alta di prezzo tra la punta e la zolla. Perché? Perché la zolla ha un impegno in più nel toglierla dalla terra, uno spazio in più occupato, un trasporto che, un albero in zolla ha un peso superiore rispetto a un albero tagliato. Quindi, cosa succede? Che tutto questo aumenta il costo. Un albero con una zolla e un vaso ha un costo quasi doppio rispetto a una punta. Quindi, io dico, non lasciamoci ingannare da questo ecologismo che forse, non lo so, magari qualcuno ha in mente che roviniamo le foreste. Non è così, voglio tranquillizzare tutti. E se vogliono un albero che si ripianta, però devono essere disposti a spendere qualcosina in più, ma ad avere poi una pianta. E questa è la grande differenza. Poi, albero di plastica, riciclato o non riciclato? Comunque, è sempre plastica. Io, non so, faccio un esempio, ti va poco la casa. La plastica brucia in un modo, l'albero brucia in un altro. Esatto, esatto. Così, ecco, mi viene su così. E poi, soprattutto, credo che quello che tagli la testa al toro, come si dice, e stronchi ogni dubbio e ogni dietrologia è questo. Cioè, tutti vivai, voi inclusi, vendono entrambi gli alberi. Entrambi le cose. Non voglio entrare nelle tasche, ma dentro di me, distinto, sono quasi più sicuro che ci guadagnate di più con gli alberi di plastica che con gli alberi me. Assolutamente sì. Per cui, voglio dire, se c'è neanche il vantaggio economico, vuol dire che effettivamente c'è convinzione in questa affermazione. Io tengo tutti e due, per soddisfare tutte le scelte. Beh, lo sai che il tempo vola e io rischio di non farti invece illustrare la lampada. Questa lampada che hai portato, che è una meraviglia. È bella, eh? E che tra l'altro restituisce un profumo anche dove c'è l'albero quello finto, per cui... Esatto. ...che non profuma. Allora, no, guarda, l'idea di portare la lampada è partita così. Noi abbiamo fatto un servizio qui con Rossini TV che è andato in onda. È venuta una signora e mi ha detto con questo servizio ho scoperto che voi avete la Lambergé. Ah, io contentissima perché vuol dire che è efficace quello che stiamo facendo. Bene. E la gente ha potuto scoprire una cosa nuova. Queste Lambergé che cosa sono? A parte un oggetto d'arredamento molto molto bello, guardate solo questo tappo, questo fatto a cappello e questa lampada. Mostrali alla telecamera che è quella. Ah, scusa. Oppure questa se sei esatto in primo piano con te, benissimo. Ok, questa lampada bellissima, il tappo stupendo, quindi sono oggetti di decoro della casa. Cos'hanno di funzione? Che depurano veramente l'aria di casa. Perché il contenuto poi della lampada, che sono queste ricariche, ha dell'alcol e bruciandosi nella catalitica va a colpire l'origine e la cellula dell'odore. Tu prova a friggere, ti accendi la lampada, il fritto non si sente più. Cavolo. Fumo. È fantastica, veramente fantastica. Come funziona? Intanto la storia, brevemente, 1898, quindi parliamo di una bella tradizione di questa storia della Lambergé. Un farmacista francese, preoccupato della sanificazione degli ambienti ospedalieri, quindi ambienti chiusi dove si sviluppavano delle malattie, decide di provare questa strada con questa lampada catalitica che brucia alcol. Da lì il passo, intanto che funzionava. E poi il passo è stato breve ad aggiungerci una profumazione. Tutte le case dell'epoca, agli inizi del Novecento, avevano la lampada e poi c'erano degli stilisti famosi, anche Picasso ha avuto le sue lampade Lambergé, quindi insomma una storia grossa, perché era appunto sia da arredamento ma funzionava veramente per quel che riguarda la purificazione degli ambienti. Quindi il passo di mettere il profumo è stato breve. Adesso ci sono quasi 70 tipi di profumazioni diverse per soddisfare tutti i nasi e tutti i gusti. È da provare perché la confezione è bella, anche regalo, perché poi un altro degli argomenti di oggi potrebbe essere quello dei regali natalizi. Questa come regalo è veramente preziosa, è molto bella e utile. Regalo molto importante, ma a questo punto veramente mi incuriosisce perché poi io per esempio in casa ho una casa su due piani fatta in un modo che gli odori si diffondono in una maniera così velocissima dovunque. Potrebbe essere una bellissima idea, molto 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 interessante. Molto molto bella, sì, molto interessante. Poi questa è una lampada importante, ce ne sono ancora di più importanti ma anche molto basiche, per cui per permettere a tutti di avere la lampada Lambergé in casa. Possiamo dare un'indicazione di prezzo. Guarda, dai 38 euro in su. Guarda, io questa cosa dei prezzi la dico perché io temo sempre che chi è a casa prenda le distanze perché noi facciamo vedere cose meravigliose. E allora c'è sempre questa diffidenza di fondi, c'è chissà quanto costa. Invece va detto, va detto perché secondo me avvicina e rende di nuovo invece interessante l'argomento. Ma poi guarda, la cosa interessante è che la Lambergé ha fatto proprio dei cofanetti che comprendono anche la profumazione all'interno. Questo perché tutti possano accedere a questo prodotto, avere in casa anche una lampada basica e poi usare le profumazioni. Questo è l'input della casa madre, quindi ok la lampada è importante ma che tutti abbiano una lampada in casa. Per cui vi aspettavate che avremmo parlato di fiori e di piante, invece oggi no. Vi sorprendiamo e vi abbiamo sorpreso perché Barbara Pantanelli del giardino di Santa Maria. Beatrice Pantanelli. Oggi è Santa Barbara ma io sono Beatrice. Ma sai che io sono molti giorni che ho il terrore invece di chiamarti Beatrice Terenzi perché chiaramente è altra amica da sempre eccetera. E invece oggi invece di chiamarti Beatrice Terenzi ho chiamato Barbara Pantanelli. Beatrice Pantanelli ci ha portato invece un regalo assolutamente inatteso ma molto molto interessante e che si sposa un po' con l'idea delle piante in casa perché così almeno va anche un po' a risolvere se ci sono delle piante che magari alla fine scoprite che ve l'hanno regalata, hanno un profumo che non vi convince tanto. Con la lampada potreste anche camuffare questo problema. Adesso diciamo che in casa piante profumate ce ne sono poche. Ci possono essere alcune orchidee molto interessanti con dei profumi di vaniglia molto buoni. e mi collego perché ci sono invece anche delle piante che purificano l'aria ed è tutta la linea delle piante air so poor. Arrivano dall'Olanda già etichettate ma anche i nostri produttori italiani le producono. Pensa sono state testate dalla NASA, quindi non un ente qualsiasi. Secondo me se le volevano portare nelle missioni spaziali per purificare l'ambiente della navicella. Quindi hanno cercato delle piante che facessero un mestiere ancora più... Perché tutte le piante purificano l'aria, producono l'ossigeno con la fotosintesi. Con loro figliana di notte fanno l'anidride carbonica e di giorno fanno l'ossigeno. Ce ne sono alcune però che producono in maniera superiore l'ossigeno. La più semplice, la più stupida è lo spatifilium, che è una delle poche piante fiorite in casa, quindi molto bella, molto elegante, molto semplice da tenere e purifica tantissimo l'ambiente. Ma ce ne sono molte altre. Sì, non le potevo portare tutte perché qui già l'ambiente è abbastanza pieno, però se ci venite a trovare ve le illustriamo. Infatti, è fatto anche bene a non portare, perché bisogna che vengono al giardino. Bisogna che vengono. E mica vi possiamo portare tutto dentro casa così. Veniteci a scoprire. Una visita al giardino va fatta, una visita al giardino va fatta assolutamente. Non riesco a togliermi dalla testa l'idea di questo oblò dell'astronave con la piantina. Con la piantina. Però vabbè, lasciamo stare, ci penserò, esatto, ci penserò durante... Non so se poi è un progetto che hanno ultimato, però loro ci hanno studiato. È suggestivo, è suggestivo. L'astronauta che annaffia la piantina sull'oblò, dove in sottofondo si vede lo spazio infinito. E si gira sotto sopra. Bellissimo, bellissimo. Su questa immagine, non so, valutate voi che tipo di immagine, noi siamo costretti a salutarti, perché è volato il tempo, è finito il tempo. Penso che però ci rivedremo, vero? Chissà. Noi secondo me ci dobbiamo rivedere anche prima di Natale. Per cui con questa promessa ci lasciamo e adesso andiamo con la pubblicità. E poi, come mi piace sempre dire, naturalmente voi restate con noi. Dopo c'è anche un video. C'è un video che strapperà qualche lacrimuccia, sono sicuro, perché è un video molto commovente. La canzone si chiama Shellove dal film Star is Born. La cantano Lady Gaga e Bradley Cooper. C'è una dedica? C'è una dedica? Aspetta, perché noi la lanciamo quest'idea e viene raccolta. Sono Luca, volevo dedicare questa citazione di Chris Bradford nella ricorrenza della giornata contro la disabilità. Ieri, ricordiamo, era la giornata contro la disabilità. La disabilità non significa inabilità, significa semplicemente adattabilità. Bellissima citazione. E su questo io ti ringrazio, ti saluto. Buona giornata. Al prossimo ritorno. Al prossimo incontro. Naturalmente dovrò predicare bene e razzolare bene in questo caso per cui ti verrò a trovare. Bravo. Non so quando, ma ce la farò. Grazie a tutti, ci vediamo fra un po', dopo la pubblicità e dopo la stupenda canzone di Lady Gaga e Bradley Cooper. Vi siete commossi? È spuntata la lacrimuccia guardando questa canzone bellissima e molto romantica, direi proprio di sì. E allora rientriamo in studio e siamo oggi con la nostra seconda ospite, con Chiara Lodovici. Ciao Chiara. Ciao a tutti. Sì, grazie mille. Come dico sempre, già proprio dall'inizio, prima di impostare questa trasmissione, ci siamo posti il problema a sedare del tuo e del lei agli ospiti. Con alcuni il problema non si pone. Con Chiara ci conosciamo da decenni, per cui il problema non si pone. Chiara Lodovici, psicologa, psicoterapeuta, nata il 23 giugno e adesso io vado a vedere qui il mio librone, Chiara. Io vado a vedere il mio librone. E mi raccomando Paolo, non psicoterapeuta. Ah no? No, sono psicologa. Psicologa, psicologa. Esatto, psicologa e counselor. E counselor, ecco, esatto. E dopo spieghiamo anche cosa vuol dire. Precisiamo perché sai bisogna essere... Precisiamo. Anzi, guarda, lo cancello solo, subito. Era una cosa mia, l'ho scritta io e ho sbagliato, ok? Così almeno la chiariamo bene. Ok, cancellata, guarda, l'ho cancellata in diretta. Benissimo. In diretta a TV. Allora, il 23 giugno, tra l'altro il giorno dopo di me, perché io sono del 22 giugno, il giorno dell'incanto interpersonale, abbiamo nati in questo giorno, abbiamo Richard Bach, lo scrittore che io adoro, quello del gabbiano Jonathan Livingston per intenderci, Arnaldo Pomodoro che tutti ben conosciamo, Gian Battista Vico, Fabio Volo, insomma sei in compagnia strepitosa. E i nati il 23 giugno sono generalmente molto interessati alle relazioni sentimentali, sia alle proprie che a quelle degli altri. Lo vedi che qui c'è scritto? Guarda a caso. Lo vedi che qui c'è scritto? È scritto, eh? Al vertice della loro scala di valori vi è la storia d'amore con il loro compagno, fanno tutto quanto possono per affascinarlo o farli apprezzare le proprie doti. Questa è proprio l'introduzione. Poi se vuoi vai a leggere tutto il resto, eh? Pregi magnetico, incantatore, romantico, difetti indiscreto. Ma è giusto così perché fa parte anche un po' del lavoro. Curioso e troppo coinvolto. Allora, entriamo nel lavoro di Chiara che abbiamo detto è psicologa ed è counselor. Allora, che cos'è sto counselor? Quali sono le differenze con lo psicologo e con lo psicoterapeuta? Esatto, infatti ci ho tenuto a precisare perché non vorrei mai... Ecco, proprio perché c'è una netta differenza. Quindi il counseling, il counselor significa consulente in relazione d'aiuto. E l'obiettivo è quello di far sì che in un tot di incontri si possa riuscire a aiutare questa persona o nel realizzare i propri obiettivi o nel mettersi in contatto con le proprie potenzialità o nell'in qualche modo elaborare delle emozioni. Chiaro che è quindi un percorso completamente diverso da quello che può essere una laurea in psicologia o addirittura una specializzazione in psicoterapia. Perché? Perché in psicologia e in psicoterapia si va a fare un'analisi ben precisa di quello che è comunque stato il passato della persona, andare a rielaborare eventuali anche traumi o situazioni del passato e ci vuole molto più tempo. Il counseling ha una durata più breve che possono essere da un dieci incontri a seconda della tematica che porta la persona, del disagio che porta la persona, fino a qualche mese. Generalmente invece uno psicoterapeuta ha una durata di anni. Poi ci sono diverse specializzazioni anche di psicoterapia, quindi la psicoterapia cognitivo-comportamentale, la psicoanalisi. Ecco perché è molto importante fare questa distinzione, esatto perché giustamente degli psicologi e psicoterapeuti a volte non si possono giustamente risentire anche di persone che comunque non avendo delle basi, perché è fondamentale, io ho una laurea chiaramente in psicologia, quindi conosci un po' la psiche umana, però ecco bisogna stare molto attenti, è un ambito un po' delicato. Giusto, ma è anche giusto che le qualifiche che molto spesso servono alle persone comuni, quelle che stanno dall'altra parte, per identificare un ruolo, siano usate appunto con molta cognizione di causa e con molta precisione. È corretto comunque. Esatto, esatto. E quindi è che proprio la differenza è anche negli strumenti che si portano per aiutare le persone nella durata e insomma ecco ci sono delle notevoli sostanziali differenze. E il counselor può lavorare solo per gli individui oppure per i gruppi, per le coppie? Come funziona? Dunque il counselor può, adesso si sta espandendo tanto questa disciplina e si può utilizzare sia con gli individui singoli ma anche in coppie e anche in gruppo. Spesso all'interno anche delle scuole vengono proprio inseriti dei counselor per poter aiutare bambini o comunque perlomeno persone adolescenti, ecco non chiaramente nel settore educativo, nell'area educativa, però prevalentemente gli adolescenti. E' quindi una figura che si sta espandendo tanto. Io la utilizzo molto perché non avendo fatto la specializzazione e solamente la laurea mi piace molto lavorare con il counselor e anche perché spazio tantissimo e utilizzo delle tecniche che possono essere anche non che si sono studiati all'università, quindi per esempio anche l'uso dell'enneagramma, l'uso e lo studio delle ferite dell'anima sono argomenti molto molto belli e c'è anche un'elaborazione delle emozioni in un modo diverso. Ecco, è come, diciamo passiamo il termine, meno pesante, cioè non si porta la persona a entrare in un triste ricordo, ma andiamo avanti, guardiamo avanti. Io sono sicuro che a casa qualcuno, anche se magari il vedere la televisione del mattino è anche un guardarla in maniera distratta, se è un attimo fermato e se è concentrato. Allora diamogli un'indicazione, diamo a queste persone a casa che magari stanno cominciando a ragionarci un'indicazione. Come faccio io, che in questo momento sono qui, ma diciamo faccio finta di essere a casa, a capire che io ho bisogno, potrei trarre giovamento da un percorso di counseling? Prevalentemente le persone che si rivolgono a me, in questo caso parlo di me, ma in generale, però prevalentemente quello che noto nel mio percorso lavorativo e professionale sono persone con grande ansia, quindi problemi proprio di tensioni, ansie profonde, che possono essere adesso un po' in questo periodo, sono dettate chiaramente dal momento che viviamo, però a volte sono ansie che vengono anche da dei retaggi familiari, culturali, eccetera. Ci sono spesso problemi di comunicazione, difficoltà proprio nella comunicazione, una comunicazione con se stessi ma anche con gli altri. Rapporti di coppia, quindi nella coppia arrivare a uno stato di noia quasi, di stand by, e quindi far sì che si possa ritrovare anche all'interno della coppia una vitalità, una complicità, quelle emozioni che comunque sono fondamentali per andare avanti. Ci sono persone che vengono con problemi di autostima, quindi stati forti disagi di insicurezza, di non credere in se stessi, il sentire di non essere mai all'altezza o sufficientemente bravo. Ecco, prevalentemente sono queste le sintomatologie principali. Chiaro che poi da una cosa che mi porta la persona, lì a volte si può aprire un mondo, comunque un'altra visione, un altro scenario, però è sempre la persona che deve guidare noi terapeuti. Noi dobbiamo seguire quello che ci porta la persona, magari abbiamo un'idea di come le cose possono essere e dovrebbero essere fatte, ma se quella persona ha necessità di andare verso quella strada, secondarlo ed eventualmente trovare un'altra strada per arrivare a un obiettivo. Avete preso appunti, allora vi siete segnati, qualcuno si sarà segnato tutto, tanti d'ansia, sì, difficoltà comunicazione, sì, poca autostima, sì. E questo è il primo passo, è un passo giusto da fare, però mi viene da chiedermi anche, naturalmente può anche essere che qualcuno si rivolga a te, a voi e comunque a te, sbagliando e sottovalutando il problema. In quel caso voi siete in grado, tu sei in grado anche di dirottarlo su altri tipi di terapia. Esatto, esatto, molte volte quello che utilizziamo sono delle resistenze, sono comunque delle difese, perché c'è paura nel contattare quello che può essere un dolore, una difficoltà, un disagio. Quindi l'obiettivo è far sì che la persona possa riuscire a vedere, vedere quello che o non accetta di sé o non riesce a comprendere o fa male. Però deve essere fatto in un modo sempre molto delicato, molto rispettoso, non si può violentare l'anima della persona, non si può entrare dritto e cercare sempre di utilizzare modi consoni, empatici. Questo è fondamentale, anche perché ci deve essere collaborazione, ma anche perché se io poi voglio per forza andare in una determinata strada, ma la persona resiste, non otteniamo nessun beneficio. Quindi rimane stagnante come lavoro. Quindi fondamentale è questo. E i loro feedback sono sempre molto importanti. Quindi comunicazione è una sorta di alleanza che si crea tra il terapeuta e il cliente, chiaramente. Quindi questo sì. Mi viene da chiedere se esiste, adesso fuori dallo scherzo che ho lanciato prima delle spunte, se esiste una piccola modalità di autoanalisi che uno può fare, perché spesso la difficoltà più grande sta nel capire di avere un problema. Cioè spesso il problema lo si nasconde, lo si nega a se stessi, lo si sottovaluta e in qualche modo non lo si capisce. Per cui c'è un modo per riuscire a capire da soli, perché poi è chiaro, la cosa che viene subito, parlane con qualcuno, cioè se uno ha un problema magari non ha neanche voglia di parlare con qualcuno. Per cui c'è qualcosa, c'è un sistema, una tecnica che noi possiamo consigliare facendo anche un servizio pubblico ai nostri telespettatori a casa per dire provateci, vedete, no? Questo è il periodo in cui tutti cerchiamo di autoanalizzarci, ci spariamo per vedere se abbiamo la febbre, abbiamo tutti comprato finalmente il saturimetro, oppure ce l'ha dato il comune di regalo per vedere come saturiamo. Insomma, vogliamo anche un po' autoanalizzarci, no? Per cominciare a capire se poi c'è una direzione da prendere. Ecco, c'è una tecnica o qualcosa? Dunque, tecniche specifiche in questo senso chiaramente non ce ne sono, però quello che posso evolutamente suggerire, perché ci sono esattamente, come dici anche tu, delle persone che vengono solo perché hanno voglia di imparare ad amarsi, quindi riappropriarsi di un amore per se stessi, anche perché sappiamo bene che se non amiamo noi stessi è molto difficile riuscire ad amare gli altri, quindi siamo i primi noi protagonisti con noi stessi. Quello che è una tecnica che utilizzo e faccio utilizzare fin da subito alle persone perché porta a conoscersi è l'autoosservazione, dove per autoosservazione si intende il partire da una situazione che ci può avere creato disagio o destabilizzato, quindi deve essere tutto scritto chiaramente, perché a volte anche scrivere aiuta a focalizzare meglio, invece se si tiene tutto nella mente si tende a disperdere. Quindi partire da una situazione oggettiva che ci può avere creato del disagio e a quel punto vedere in quale parte del corpo sentiamo quella situazione, e quindi potrebbe essere che le persone sentono una palpitazione oppure un peso sullo stomaco. A quel punto cercare di identificare l'emozione che c'è stata alla base di quella situazione, che quindi anche qui le emozioni prevalentemente, poi si dovrebbe fare tutto il discorso, sono distinte tra primarie e secondarie, ma le primarie prevalentemente sono rabbia, paura, tristezza e gioia e borderline la vergogna. A quel punto andare poi a risalire al pensiero che ha determinato emozione e eventuale disagio nel corpo, perché da tenere presente che parte prima il pensiero e poi l'emozione. Non è viceversa, a volte si pensa che parte prima l'impeto o comunque la parte emotiva e poi il pensiero no. Quindi risalire al pensiero a volte è fondamentale per poi andare a elaborare, sciogliere delle cose. A quel punto, come ultimo step, vedere, analizzare che comportamento abbiamo attuato in quella situazione di disagio. Se è stato un comportamento adattivo, quindi giusto o meno, altrimenti se non è stato giusto, trovare un comportamento nuovo. Un comportamento nuovo che si può basare sulla nostra comprensione, creatività che ci aiuti a gestire meglio quella situazione iniziale. Quindi gli step sono esattamente il focalizzarsi su scrivere la situazione oggettiva, sentire nel corpo, perché anche i sensi, ritornare ai sensi è molto importante. Noi siamo tutto, siamo fisico, emozioni, mente. Andare a vedere l'emozione, risalire al pensiero che è fondamentale e il comportamento attuato ed eventualmente uno nuovo. L'autoosservazione è una tecnica importante per aiutarsi inizialmente, ma anche perché poi si può riuscire a trovare il comune denominatore. Diciamo che alla base spesso di alcuni disagi emotivi e comportamentali c'è un comune denominatore, che generalmente è focalizzato nel pensiero. Su quello si va a lavorare. Quindi se per esempio io trovo disagio continuamente in una situazione dove mi sento giudicato e entro subito in difesa, in resistenza, perché quando una persona mi fa, mi evidenzia una cosa, mi sento subito giudicato e il mio pensiero è quindi ecco, non sono all'altezza e come comportamento mi rigidisco, divento aggressivo, bisogna andare a comprendere la radice. Bene, allora vi abbiamo incuriosito, anzi Chiara Lodovici vi ha sufficientemente incuriosito su questo tema, perché vi possiamo già preannunciare che Chiara Lodovici tornerà. Questo è uno di quei casi in cui io in qualche modo non mi rammarico del tempo tiranno, perché il tempo è tiranno, ma in questo caso possiamo dire che tornerai, per cui questa è la puntata propedeutica, è stata la puntata nella quale abbiamo fatto capire di cosa parliamo e di cosa parleremo quando avremo Chiara in studio. Tra l'altro, voglio ricordare, non l'ho fatto oggi, che c'è un numero di telefono collegato a una scheda WhatsApp 351 708 9977 e c'è un indirizzo mail casarossini, chiocciarossinitv.it. Se volete fare una domanda a Chiara adesso è un po' tardi, potete farla perché Chiara si ferma ancora un attimo qui con noi, ma io sto per dare il cambio al prossimo ospite. Però utilizzate questi strumenti per mettervi in contatto sempre e comunque con i nostri ospiti, con noi e con i nostri ospiti e sono sicuro che quando annunceremo la tua prossima presenza qua qualche messaggio e qualche richiesta arriverà, perché l'argomento sono certo che è uno di quelli che interessano i nostri spettatori a casa. Chiara, io ti ringrazio. Grazie a te, grazie, è stato veramente un piacere rivederti ed essere qui con tutti voi, grazie. Bene, grazie a te allora e adesso Allegra facciamo il cambio dell'ospite in diretta, perché lo facciamo tutto così, sì sì, la nostra formula di casarossini è questa, facciamo il cambio dell'ospite in diretta, lui ha già il microfono perché è sanificato, è già fornito, grazie a Chiara Lodovici allora che tornerà comunque ve lo prometto e accogliamo, non con un applauso perché non abbiamo il pubblico in studio, ma accogliamo con molto piacere. Mirko Ruggeri, il sindaco di Carpegna. Sindaco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Come va, nevica? Non nevica, ieri ci ha provato, ci ha provato, ma il risultato non è stato ottimale, comunque vediamo ancora abbastanza presto. Come la prendete quando nevica? È una festa oppure è un po' di preoccupazione? Sicuramente no, ci sono delle problematiche che sono chiaramente oggettive per quanto riguarda la neve, però noi siamo comunque preparati, è una situazione abituale, tutti gli anni si ripete e quindi siamo pronti ad affrontarla, non è solitamente un grande disagio, a meno che non faccia come nel 2012, il grande nevone a quel punto è chiaro che le difficoltà diventano forse più della soddisfazione. Il grande nevone mette in difficoltà tutti, però insomma quella bella imbiancata, quella che mette a posto il panorama come ci piace, insomma... No, non è male, non è male, direi che rincuora anche in alcune occasioni, sicuramente. Io come tanti dell'età mia sono di quelli che ha imparato a sciare a Villa Grande, a Carpegna e poi da lì dopo ci siamo spostati anche sui Sibillini, il Catria, insomma mi hanno fatto diverse cose nei paraggi e naturalmente siamo molto legati a quel territorio, anche se ultimamente dal punto di vista del turismo, dello sci, diciamo, ci possiamo contare un po' meno, vero? Anche se gli impianti ci sono. Diciamo pure che nelle Marche abbiamo delle belle realtà e quindi sicuramente possiamo andarci e sciare. Ultimamente fa un po' meno neve, questo sicuramente, e quindi magari negli ultimi anni c'è stata un po' di difficoltà appunto per questo. Poi adesso gli impianti sono anche chiusi per scelta del governo, quindi abbiamo tagliato la testa al toro, neve o non neve, non riusciamo a sciare. Quest'anno si fa la pari comadonna di Campiglia, insomma, uguale. Esatto, siamo sullo stesso livello, è la giustizia del virus, mettiamola così. Chiusi uguale. Diciamo che sicuramente per loro sarà un danno economico incredibile per tutte le Alpi e per quei comprensori sciistici che vivono proprio di sci. Però anche per noi sicuramente... Stiamo vedendo delle immagini che ci hai portato del vostro territorio. Esatto, questo sono gli impianti di risalita e vi dicevo appunto noi sicuramente troviamo giovamento da quella che è l'economia dello sci, non come altre località ma anche da noi ha un'incidenza importante e quindi il fatto che si debba rimanere chiusi provocherà sicuramente un danno economico a tutti gli operatori e all'indotto, chiaramente anche la ricettività ne risentirà e però aggiungo anche che se è stata pensata questa misura cautelativa e di tutela molto probabilmente hanno, io penso che abbiano ponderato nella giusta maniera con i dati scientifici e statistici e a questo aggiungo che se il governo sarà così attento da poter ristorare quelle persone che così hanno subito questo danno economico, questo calo di introiti sarà un danno ma fino a un certo punto e se è una tutela che serve a limitare così il contagio ben venga se appunto poi si ha anche un ristoro da parte di quelle persone che ne hanno avuto un disagio e uno svantaggio economico. Poi l'identificazione sul tema è molto chiara, l'arco alpino, il territorio, la neve, le montagne e gli impianti di salita, insomma sono quelli gli argomenti per cui diciamo che la scelta è anche facile dal punto di vista del ristoro poi eventualmente perché poi i soggetti da ristorare sono identificatissimi insomma, no? Sì, non dobbiamo però dimenticare che dietro al lavoro degli impianti poi c'è il lavoro degli hotel, c'è il lavoro dei bar, dei negozi e quindi insomma tutto il resto, anche tutto il resto secondo me va individuato e va ristorato, speriamo che avvenga perché a volte è complicato in alcune situazioni veramente avere il quadro generale, complessivo è un po' più complicato. Se vogliamo anche gli autogrill delle autostrade che portano verso le montagne sicuramente avranno un danno perché ci sarà meno gente che ci fanno. Ecco presa, sì, vista in questa maniera. L'ecosistema si amplia molto. Come si sta organizzando il comune di Carpegna comunque per il Natale? Perché è vero, siamo chiusi, è vero che i comuni saranno ovviamente legati alla loro dimensione territoriale e di conseguenza i comuni più piccoli saranno forse i più penalizzati dal punto di vista delle possibilità e degli spostamenti, visto che all'interno per forza di cose hanno meno possibilità e meno cose da fare, però comunque nessuno si tira indietro, nessuno dice va bene, ciao ragazzi chiudo, ne parliamo il 7 gennaio, no? Allora io penso che le festività natalizie siano una gioia per la comunità a prescindere dalla presenza dei turisti e quindi abbiamo il dovere così di fare in modo che siano vissute nella maniera migliore possibile e addirittura vi dico c'era anche l'ipotesi, quest'anno ho visto proprio tutte queste limitazioni di non spendere soldi per luminarie o di limitare in qualche modo appunto le uscite per questo motivo, le uscite economiche per questo motivo e di concentrarsi su altro di più concreto, però effettivamente lasciare una comunità senza la gioia appunto di vedere un albero di Natale e di essere gratificata anche dalle luci e dalle iniziative insomma ci sembrava sicuramente una cosa proprio in quest'anno dove abbiamo ancora più tristezza insomma ci sembrava una cosa fuori da ogni logica e quindi molte iniziative verranno ripetute chiaramente quelle che erano pensate e venivano realizzate proprio perché c'erano turisti chiaramente non possono essere realizzate però tutte le altre rivolte alla comunità del paese Doni sotto l'albero, la strada dei presepi e tante altre che si vengono ad attivare in questo periodo verranno insomma realizzate come avviene di solito. Sì abbiamo sentito su questo discorso delle luci proprio una scelta da parte di Beatrice Pantanelli dal Giardino di Santa Maria che oggi è stata nostra ospite che ha detto cioè loro anche come attività commerciale hanno voluto proprio dedicare ancora di più la loro visibilità alle luci e tutto il resto proprio per dare quasi quasi un contrapposto per contrapporsi quasi a un compensare diciamo un compensare la stessa cosa ha fatto il Comune di Pesaro che ovviamente ha spinto per un allestimento di questo genere ho visto anche l'accensione dell'albero veramente molto bello diciamo che condivido diciamo che sono iniziative che incoraggiano e che aiutano sicuramente a livello emotivo paradossalmente il calo di neve degli ultimi anni ha fatto sviluppare un altro argomento sul turismo sportivo delle vostre zone e in particolare del Comune. Questo è molto vero. E di conseguenza parliamo un po' perché poi siamo reduci da un'estate che tra l'altro è andata molto bene. Sì l'estate è andata bene e è andata bene per la montagna in generale e diciamo che si ha avuto un aumento anche significativo di persone che hanno frequentato appunto le zone aperte turisti green quindi trekking, mountain bike, persone che hanno conosciuto la montagna un po' più da vicino magari lo facevano saltuariamente e invece abbiamo potuto notare che ripetutamente si sono spinte nei nostri territori e li hanno vissuti in maniera intensa. Quindi di questo siamo contenti. Anche quei tipi di ricettività diciamo non gli hotel o questi tipi di ricettività ma ad esempio i campeggi oppure le case che venivano affittate, le villette, una grande richiesta di questo tipo di ricettività. Quindi diciamo che c'è stato da una parte un piccolo calo sul discorso della ricettività degli hotel. Molto probabilmente le persone erano un po' impaurite da questo però per il resto veramente ci sono stati dei numeri molto molto interessanti. E tra l'altro il nostro comprensorio sarà anche oggetto di interventi importanti. Non so se magari lo sapete la regione Marche aveva finanziato un bike park. nel comprensorio del Monte Carpegna ed è uno dei tipi di turismo che noi vogliamo sviluppare perché ben sia adatta ai nostri territori. Una prima transce dei lavori è già stata realizzata andando a consolidare e diciamo a rendere più percorribile la famosa salita Pantani quindi la strada che sale da Carpegna verso il Cippo e poi diciamo percorre tutto il Monte Carpegna riscendendo verso Passo Cantoniera. Quell'intervento è già stato realizzato. Ci saranno altre due trans di interventi che andranno diciamo a completare questo bike park che speriamo sia un volano economico importante di sviluppo perché noi delle aree interne non abbiamo chissà quali possibilità veramente di incidere sull'economia e il turismo sicuramente è una di quelle di quei filoni che possiamo sviluppare sui quali possiamo contare e quindi dobbiamo obbligatoriamente svilupparli e pensarli nel migliore dei modi per attrarre più turisti possibile. Eravate pronti o vi ha un po' colto di sorpresa questo interesse sul territorio dovuto a questi sport che ormai non sono più ma noi continuiamo in qualche modo a considerare emergenti nell'interesse mondiale? Allora no, effettivamente non ci ha sorpreso e non ci ha sorpreso anche perché comunque consideriamo che Carpegna intanto è la sede del Parco Natura del Salso Simone Simoncello è un parco interregionale perché da quando Pennabiglia è passato in Romagna è diventato appunto territorio anche della regione Romagna quindi è un parco che si sviluppa su due regioni. Tra l'altro l'obiettivo ambizioso sarebbe quello di trasformarlo in parco nazionale magari annettendo anche la riserva protetta di Toscana del comune di Sestino. Su questo insomma ci si sta confrontando e secondo me sarebbe un passo ulteriore che darebbe veramente impulso perché sappiamo come i parchi nazionali abbiano un impatto molto più importante sui territori sia dal punto di vista dello stanziamento di risorse diciamo umane ma anche soprattutto economiche quindi sarebbe veramente un passo avanti. E quindi ecco c'è già un parco naturale dove sono già presenti tutta una sentieristica segnalata e ben visibile quindi già percorribile e quindi diciamo che i turisti che sono venuti non hanno fatto altro che sfruttare quello che già era presente sul territorio che secondo me è tanta roba e tanta roba quindi hanno anche molto apprezzato quello che hanno trovato. Tra l'altro quest'estate abbiamo anche avuto un'iniziativa importante che era stata quella del Carpegna Holiday anche questa finanziata dalla regione Marche che ha unito un po' l'aspetto culturale artistico con quello enogastronomico andando a valorizzare anche i prodotti tipici tra cui diciamo quello che è il prodotto che la fa da padrona il prosciutto di Carpegna una delle tre DOP delle Marche e anche quello che è l'artigianato artistico con la valorizzazione dell'antica stamperia questa bottega artigiana dove diciamo l'ultimo rampollo di questa famiglia che nei secoli si è tramandata il lavoro sta facendo veramente un lavoro eccezionale di programmazione e di rivisitazione di tutto quello che era il lavoro della sua famiglia quindi una stampa a mano su tessuti naturali ecco un progetto che anche quello ha attratto tantissime persone. Sicuramente Carpegna che per noi ovviamente come dicevo è un riferimento per noi del territorio è diventata famosa a livello italiano anche per questa sponsorizzazione che la Carpegna Prosciutto ha fatto con la VL. La VL mi dà il gancio per parlare dei ritiri e mi dà il gancio per parlare di un altro genere di turismo, il turismo dei ritiri sportivi. Sì, in bassa stagione ma non solo insomma perché poi alla fine si sviluppano durante tutto l'arco dell'estate abbiamo la fortuna di ospitare tanti ritiri di squadre professionistiche o meno o anche addirittura giovanili. Tra l'altro questo aspetto delle squadre giovanili di ritiro è un aspetto che ci interessa tantissimo perché comunque oltre ai ragazzi vengono diciamo anche le famiglie che si avvicinano a Carpegna, anche le famiglie di questi ragazzi quindi ci dà modo di farci conoscere ancora di più. E anche la sponsorizzazione da parte della famiglia Beretta e quindi della Carpegna Prosciutto alla VL sicuramente ha svolto un ruolo fondamentale perché comunque insomma vedere il proprio nome sui giornali, sulle televisioni ha dato una spinta ulteriore. Sono tanti anni che ospitiamo questi ritiri e proprio per questo abbiamo fatto in modo che i nostri impianti fossero pensati in maniera ottimale e quindi ci abbiamo anche speso tante risorse e adesso ne gioviamo dei frutti insomma di questi ritiri. Ed è bello questo rapporto con la VL che è la squadra di Pesaro. Noi insomma siamo contenti di avere i pesaresi a Carpegna perché ci sono sempre stati e perché siamo appunto pesaresi a tutti gli effetti anche se attorno a Carpegna ci sono state negli anni queste velleità di trasferimento di regione diciamo, di passare in altre regioni. In realtà noi veramente siamo fieri di essere nella provincia di Pesaro, ci vogliamo restare e vogliamo fare in modo che la nostra economia sia fiorente e i cittadini contenti. Dal punto di vista della visione del sindaco la sensazione qual è? C'è ancora tanto da fare oppure siamo alla fase delle rifiniture? No, no non siamo alla fase delle rifiniture. Se pensassi questo direi che avrei sbagliato tutto. No, c'è molto da lavorare, c'è molto da lavorare perché i territori che vogliono attrarre turisti sono sempre attenti alle novità. Il turista ha bisogno di essere sollecitato, ha bisogno di essere richiamato, ha bisogno continuamente di stimoli nuovi, quindi dobbiamo sempre pensare in un'ottica futura e futuribile e sicuramente avere anche dei sogni perché i sogni sono importanti, ti aiutano a sviluppare situazioni nuove e se fossero anche irrealizzabili però veramente ti danno la strada maestra per pensare tutta una serie di attività che devono per forza attrarre sempre di più. Quindi no, direi che diamoci pur da fare perché altrimenti chi si ferma è perduto. Bene, allora anche se non sono più quei tempi in cui, voglio chiudere con un ricordo personale, è successo poche volte, però si partiva da Pesaro con la bianchina, con le catene già a Pesaro, con la bianchina, con le catene, babbo, mamma e mio fratello perché ce n'avevo uno solo all'epoca che era Gabriele e Andrea ancora non era arrivato per venire a sciare a Carpegna, è successo, 60 km da fare con le catene da qua. Non sono più quei tempi però come vedete la montagna è ancora molto attiva, molto ricettiva e soprattutto molto proiettata verso quello che è una visione del turismo sempre nuova, sempre innovativa, sempre alla ricerca di offrire cose importanti a un turismo che a questo punto non arriva più solo dal territorio limitrofo ma può avere un occhio puntato su Carpegna anche da tutta Italia e forse anche dall'estero grazie a qualche operatore. Direi di sì e consideriamo comunque che Carpegna all'interno del Monte Feltro che è una realtà storica importante e quindi diciamo che oltre al discorso ambientale e paesaggistico, oltre al discorso dello sport sicuramente i motivi per venire nel nostro comprensorio sono anche altri e molti che vengono anche da fuori regione, ad esempio abbiamo un buon bacino d'utenza ad esempio nel Lazio o anche un buon bacino d'utenza in Brianza ad esempio che sembrerebbe una cosa, sembra una cosa strana invece abbiamo tanti clienti da Monza a Brianza legati anche al discorso del turismo scolastico che si è sviluppato molto negli ultimi 10-15 anni, prima non esisteva, invece in questo momento ci dà la possibilità di lavorare anche in primavera e anche in autunno, meno però la primavera sicuramente è molto frequentata dalle gite scolastiche Carpegna, ha veramente tante scuole che vengono per visitare Carpegna ma anche per visitare quello che c'è attorno a Carpegna perché nel giro veramente di qualche decina di chilometri abbiamo un'infinità di attrazioni e quindi è giusto che si continui a sviluppare anche quel filone lì, quindi spesso Carpegna che d'estate ha un clima eccezionale, veramente buono, dove non si soffre mai la calura, venga sfruttata come punto di partenza sia per visitare il nostro territorio ma per poi spingersi nei paesi vicino, Frontino, Pennabilli, San Leo, Sasso Corvaro, Macerata Feltria, quindi tutti quei paesi che comunque hanno una buona proposta culturale e artistica. Siamo ancora una volta, ormai non mi stancherò più di dirlo, nel filone della passione per quello che si fa, siamo stati con il sindaco di Carpegna Mirko Ruggeri che ci ha dimostrato che non è tempo di piangere, è tempo di attivarsi comunque per valorizzare sempre di più un territorio che noi siamo i primi ad amare e a scoprire e a cercare di far scoprire i nostri telespettatori. Ringraziamo il sindaco Ruggeri, ci rivedremo, torneremo per ascoltare qualche novità sicuramente nei prossimi mesi. Oggi sono stati con noi Andrea Sabatini, conduttore di Vallefoglia Magazine e poi Beatrice Pantanelli, direttrice generale del Giardino di Santa Maria, Chiara Lodovici, psicologa e counselor e Mirko Ruggeri, sindaco di Carpegna. Grazie a tutti per essere stati con noi, l'appuntamento è alla prossima settimana oppure con tutte le repliche di Casa Rossini. Grazie a tutti per essere stati con noi.